La stela più luminosa del firmamento è Sirio, ma in effetti essa è una binaria veramente difficile da separare. Ciclicamente Sirio B aumenta notevolmente la sua distanza da Sirio A ed è in questo periodo che va tentata l'osservazione. A detta di chi ci ha provato è riuscito nell'impresa anche con un 20 cm in una serata di 6 imperfetto. Purtroppo non è poi tanto la distanza angolare tra le due stelle che ne impedisce la separazione, bensì, l'eccessiva differenza di luminosità tra le due stelle.